L'8 ottobre a Napoli si terrà il meeting di Italia Viva, poi a metà mese appuntamento con la Leopolda, dove l'ex premier Matteo Renzi chiarirà come intende muoversi nei prossimi mesi. In campania i ragionamenti abbondano, sindaci, consiglieri, amministratori pubblici stanno mettendo su commutati. Anche il manager dell'Eav, Umberto De Gregorio, è tentato da Italia Viva e sembra esserlo anche per la corsa verso Palazzo San Giacomo. Io sono un uomo dell'Unione, quindi non sono, francamente non mi appassiona, non vivo questa scissione di Italia Viva come una scissione appunto. È un cambiamento, un ampliamento del panorama elettorale, lo vedo con grande attenzione, lo vedo positivamente. Poi vedremo, c'è tempo per fare scelte, che peraltro io sono un amministratore pubblico, non faccio politica attiva. Io sono della partita di quelli che vogliono fare qualcosa. Puoi fare l'assessore, il consigliere, l'amministratore, il sindaco, il governatore, è poco importante. L'importante è fare il gioco di squadra. De Gregorio, tra l'altro, è autore di un volume, Tradire il fare, in cui racconta la sua esperienza da amministratore. Lo stesso dal 2015 gestisce l'Eav, lente autonomo Volturno, che si occupa del trasporto pubblico della regione Campania. È un racconto di come sia molto facile giudicare, fare l'editorialista del giornale e giornalista. È molto più complicato poi agire e incidere in realtà complicate, come sono le nostre, che sono sempre molto complicate. Quindi è un racconto delle difficoltà dell'amministratore pubblico, ma anche della possibilità di fare delle cose. Un invito a sporcarsi le mani e quindi a essere presenti nella gestione della cosa pubblica, allo stesso tempo un invito a essere, per i magistrati e giornalisti, un po' più attenti e a essere un po' più, come dire, modesti nel giudicare. Addirittura lancio una provocazione. Sarebbe bello se i magistrati e i giornalisti potessero fare un anno sabbatico a fianco di un amministratore pubblico e poi ritornare a fare. I giornalisti e i magistrati sicuramente tornerebbero un po' cambiati.